E allora andiamo? Andiamo. Ma Elvira, dovrei almeno telefonare. Hai ragione, certo. Telefona. Telefona? Alla salute di Pia Gnozzi. Alla salute del grande azzente. Giusto, giusto, giusto. Senso, leggera, leggera. Come se fossi diventata doppia. Due gemme. Che bellezza. Ficca tanto, sa. Perché la gemma numero uno non è contenta della gemma numero due. Allora annecchiamo la gemma numero due. Annecchiamola! Sangue soga. Giurerei che è una sfida. Ti rivesti i figli? Ciao. Ciao. Ah, senti. Domani no, ho da fare. Dopodomani allora. Grazie. Grazie. Grazie.